Il 4 settembre si corre il Giro del Val d'Arno, classica del ciclismo toscano. Il Consiglio regionale la presentazione della gara che vedrà la partecipazione di 30 squadre con i migliori giovani del panorama internazionale. Presentata a Palazzo del Pegaso la settima edizione di Fratelli Burrattini, il Festival del Teatro di Figura Porta Gardi Atter in Toscana. 23 spettacoli in 12 comuni della città metropolitana dal 9 settembre al 1 ottobre. Sono 30 le squadre che si sfideranno lunedì 4 settembre nella corsa alla vittoria della 45esima edizione del Giro del Val d'Arno, una classica del calendario ciclistico toscano presentata nel MediCenter David Sassole a Palazzo del Pegaso. La corsa aperta alla categoria Elite Under 23 si svolgerà sul territorio del comune di Figline in Cisa Val d'Arno, con partenza alle 13 da Piazza Santa Lucia e si concluderà come da tradizione in Piazza Marsilio Ficino. Per il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, questa gara è la dimostrazione di come la Toscana sia terra di sport e ciclismo. La Toscana è terra di sport, la Toscana è soprattutto terra di ciclismo e questa è un'edizione importante, la 45esima. Consentitemi di ringraziare il nuovo pedale figlinese per il lavoro importante che porta avanti ogni anno. Voglio ringraziare tutti i volontari che si impegnano a fare in modo che anche questa edizione sia un'edizione bella, sia un'edizione partecipata, sia un luogo in cui dare opportunità ai migliori giovani di tutto il mondo. Ogni volta che si investe su iniziative che riguardano i più giovani noi dobbiamo esserci, perché queste iniziative consentono davvero di dare opportunità, di vedere crescere i migliori talenti ed è un modo per avvicinare ancora di più tante persone a uno degli sport più belli al mondo. È una classica che apre i festeggiamenti del perdono, i festeggiamenti del perdono contraddistinguono tutto il Valdario, la retina e il Fiorentino a girare da un comune dopo l'altro. La corsa di Figline, la corsa ciclistica, organizzata con grande impegno dal nuovo pedale figlinese, è un grande avvenimento di sport, uno dei più importanti di tutto il Valdarno e di tutta la Toscana. E dobbiamo un ringraziamento a chi contribuisce, a chi si impegna per la realizzazione di questa bella manifestazione sportiva, perché organizzare una bella corsa vuol dire metterci tanto impegno e tante risorse. E quindi da parte nostra un grande ringraziamento a tutti i volontari del nuovo pedale figlinese, un'associazione che merita tanta attenzione e che ha nel comitato d'onore nomi importanti come Chioccioli e Moserre. Quindi è stato importante anche per il Consiglio regionale poter contribuire a questa manifestazione che qualifica lo sport e che qualifica lo sport del Valdarno e della Toscana. Quello che cambia è che quest'anno la gara ciclistica si inserisce all'interno della programmazione del cinquantesimo palio di San Rocco, che è chiaramente un'occasione speciale per la nostra cittadinanza. Ormai questa sinergia tra la corsa ciclistica e il palio, che è un elemento identitario durante l'anno per tutta la nostra comunità, va avanti da tempo con grande soddisfazione e con grande impegno di tutti i volontari e le volontarie e le associazioni che lavorano per questa grande occasione. Chiaramente la corsa che stiamo presentando stamattina è un elemento di grande soddisfazione per tutta la cittadinanza e lo testimonia anche il fatto della grande partecipazione di aziende, sponsor e singoli cittadini che fanno la loro parte per far sì che tutto questo possa svolgersi nel migliore dei modi e ponendo questa gara ormai in un panorama nazionale e internazionale delle corse per gli Elite Under 23. Quindi veramente grande soddisfazione da parte nostra. Un ringraziamento chiaramente anche a Città Metropolitana e a Regione Toscana che hanno deciso anche quest'anno di collaborare all'organizzazione di questa forza e di fare la loro parte anche nel valorizzarla. Questo per noi come Comune di Figlini in Cisa è un grande elemento di soddisfazione che pone lo sport e cismo di Figlini in Cisa al centro della Toscana e dell'Italia per questo piccolo fine settimana del perdoro. Quindi veramente un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato. Chiaramente questa è una manifestazione di prestigio tra le gare più prestigiosse ci sono in Toscana sia per l'Albo d'Oro sia per come viene organizzato. Quindi faccio tanto complimenti all'organizzazione in particolar modo al Presidente Sarri perché non è facile organizzare una gara così lunga e impegnativa con 30 squadre, quindi tanti corridori prestigiosi. Basta vedere l'Albo d'Oro. Non per nulla c'è stato un corridore che ha preso la maglia rossa che ha lavorato due giorni fa che l'ha vinta due anni fa quindi per capire il target di questa gara. Per noi è ormai diventato importante essere accanto a queste manifestazioni sportive perché non soltanto hanno lo scopo di promuovere lo sport ma anche di far conoscere la bellezza dei territori e dei luoghi dove si svolge la competizione. Quindi è un mix di quei concetti che abbiamo tenuto dentro anche il nostro forte volere in città metropolitana una grande manifestazione che è il Tour de France. Quindi il concetto è sempre lo stesso cercare di investire risorse nel mondo dello sport perché non soltanto sono importanti per continuare a coinvolgere i giovani all'interno di quella realtà che a mio avviso è una realtà educativa, valoriale che è il mondo dello sport ma anche perché attraverso questi investimenti possiamo valorizzare i nostri territori possiamo migliorare anche la rete diaria dei nostri territori investendo sulla sicurezza stradale e soprattutto di portare quel messaggio che lo sport spesso ha avuto nella storia di essere un mondo dove non esistono differenze dove non esiste nessun muro dove la competizione è sicuramente uno stimolo ma una volta finita la competizione si smette di essere avversari e si diventa amici. Questa è una realtà internazionale che fortunatamente si sta ripetendo tutti gli anni e ci auguriamo ancora che vada avanti perché è una bella gara hanno vinto dei nomi importanti di ciclismo italiano Bartoli, Chioccioli, Paganesi, Pontempi quindi ha una bella tradizione quindi noi speriamo e già da qui mi auguro che anche la regione il Consiglio regionale continui a dare il suo contributo come la città metropolitana e come il nostro comune Il percorso è il classico percorso che si svolgerà i primi 40 km su un circuito nel territorio di Incisa-Valdarno e gli altri 130 km nel territorio di Figline anche se il comune è lo stesso però le dislocazioni sono diverse è molto impegnativa attraverseremo il paese nove volte di Figline-Valdarno con l'arrivo in piazza Marsiglio-Ficino Torna per la settima edizione il Festival Fratelli Burattini rassegna di teatro di figura per famiglie e bambini organizzato dalla compagnia I Pupi di Stack il calendario degli spettacoli che andranno in scena dal 9 settembre al 1 ottobre in 12 comuni della città metropolitana di Firenze è stato presentato martedì 29 agosto a Palazzo del Pegaso un viaggio nella magia del teatro di figura attraverso le storie raccontate da compagnie italiane e straniere e dai loro personaggi che i bambini potranno poi avvicinare a fine spettacolo per conoscere le varie tecniche di realizzazione quasi tutte le compagnie infatti creano i propri personaggi usando oggetti di riciclo oppure cartapesta, gomma piuma, stoffa, legno un festival per i più piccoli nato a Firenze e cresciuto nella città metropolitana che parla al cuore delle bimbe e dei bimbi e anche alle famiglie ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo Fratelli Burattini è un'iniziativa un festival importante un festival nato a Firenze che è cresciuto nella città metropolitana un festival che parla al cuore delle bimbe e dei bimbi ma che tende a parlare alle famiglie è un modo di comunicare un'arte moderna che sa arrivare dritta dritta al cuore voglio ringraziare i pupi di Stack per il lavoro che portano avanti ogni giorno che stanno portando avanti da anni frutto di un lavoro serio di un lavoro impegnato di un lavoro di frontiera di un lavoro che sa arrivare al cuore delle giovani generazioni ma devo dire una bellissima tradizione che non smette mai di diventare una cosa nuova perché in realtà nell'epoca del digitale del tutto schiacciato su uno schermo credo che per i più piccoli trovare questa tridimensionalità e anche per noi a volte dello spettacolo visivo attraverso i burattini sia una cosa sorprendente che possa colpire l'immaginario è una tradizione importante che esprime una capacità artistica non solo nella realizzazione dei burattini che sono poi delle piccole opere d'arte ciascuno ma anche nella struttura della narrazione nella necessaria sintesi della narrazione e della sceneggiatura credo che sia uno spettacolo bellissimo che mentre a noi un po' più anziani può sembrare un déjà vu per i più piccoli credo che possa essere davvero una novità come spesso sono tanti anche oggetti o concetti della nostra storia che risultano oggi del tutto nuovi Noi pupi di Stac porteremo due o tre nostri classici sarà solo una presenza ma il piatto forte sono spettacoli ospitati anche dall'estero perché non è facile in stagione cioè durante l'inverno con il biglietto nei teatri avere queste occasioni di spettacoli un po' particolari che la Daria vi avrà già spiegato e che sono giusti per un festival piuttosto che per una rassegna continuativa con un pubblico più popolare e più numeroso E anche noi siamo una compagnia teatrale gestiamo un teatro nel Mugello e quindi questo incrocio che è anche una conoscenza una collaborazione che da anni ci accomuna appunto con la compagnia dei pupi si concretizza quest'anno ancora di più con una collaborazione ancora più attiva e in qualche maniera noi rappresentiamo uno dei dodici comuni con cui poi la compagnia collabora perché l'idea proprio di un festival diffuso sul territorio provinciale diciamo è sicuramente un'idea vincente la nostra collaborazione si concretizza anche nel riuscire appunto a portare quest'anno all'interno del festival Gardi Utter che è una delle clownesse internazionali una delle pochissime donne che ha questa qualifica e che gira veramente in tutto il mondo in 35 paesi è veramente un evento particolare che riusciamo a fare proprio in collaborazione noi come ente come città metropolitana di Firenze vogliamo essere presenti perché pensiamo che questo sia un servizio culturale che è assolutamente non solo efficace per il nostro territorio ma ne sente proprio l'esigenza di tornare a quelle arti che non danno messaggi veloci ai nostri ragazzi e continui come sono i cartoni animati di oggi o tutto quello che oggi vedono i nostri ragazzi che ha appunto una velocità che non dà a loro il tempo di riflettere di pensare di a volte anche un po' annoiarsi che sviluppa in questo caso la creatività e la fantasia sono tipi di spettacoli che aiutano i nostri ragazzi a vivere con lentezza un momento meraviglioso della loro crescita all'interno della fantasia che gli fa sviluppare così un pensiero creativo maggiore noi come città metropolitana e come ente pubblico sentiamo appunto il dovere di doverci stare il dovere di continuare a contribuire a un festival come questo quello che caratterizza fondamentalmente questo festival è il fatto che andando nei comuni ognuno di loro diciamo accoglie il festival in maniera completamente diversa quest'anno abbiamo la nuova collaborazione col comune di Palazzuolo Sul Senio al quale teniamo particolarmente che addirittura arriverà nelle scuole quindi diciamo che si parte da un discolto culturale ma poi si va ad abbracciare numerosi ambiti grazie a tutti